Vincenzo Esposito e la Juve Caserta, un libro senza fine che presto si arricchirà di nuove pagine. La Juve infatti ha deciso di affidare alla stella ex NBA un ruolo da protagonista nella società del futuro, in particolare nel settore giovanile di cui diventerà unico responsabile. Il club del padrone Loi Avazzi sta mettendo da parte tutte le sue forze per il finale di stagione, ma soprattutto sta pianificando il suo futuro. Ecco dunque già pronti i fuochi d'artificio per il prossimo anno. Il nome nuovo, se così può essere definito, è stato scelto senza troppe riflessioni ed in maniera altrettanto spontanea è arrivata la risposta della vecchia guardia bianconera. La bandiera della Fanola, vincitrice dello scudetto del 91, tornerà a vestire i suoi colori e non è escluso che sul parquet possa tornare ad indossare anche casacca e scarpini. Una volta terminata la sua stagione a Dimola, che lo ha visto iniziare come allenatore e concludere come giocatore dopo il clamoroso ritorno in campo, è il Diablo. Si riavvicinerà alla sua città. A lui il duo presidenziale Loi Avazzi-Barbagallo consegnerà le chiavi dell'intera area giovanile, ma il suo ruolo sarà determinante in tutto il settore tecnico. Comportamento diverso rispetto a quello dell'amico e collega di mille battaglie Nando Gentile che rifiutò una proposta simile qualche mese fa, preferendo la vicinanza ai figli Stefano e Alessandro. Esposito ha avuto bisogno di pochissimo per decidere del suo futuro. L'idea di lavorare ancora con quei colori ed in più di far parte di un progetto così lungimirante lo ha reso entusiasta a tal punto da raggiungere Caserta lo scorso weekend per chiudere un accordo verbale. Si tratta di una svolta anche per la sua carriera dopo l'esperienza a Dimola che gli ha consentito di tornare ad incantare i parquet di Mezza Italia dopo quattro anni di inattività. Non serve ripercorrere le straordinarie vittorie conseguite con la Juve a cavallo tra anni 80 e 90. In tanti ricordano come fosse ieri la sua eleganza, il suo talento ed il suo devastante atletismo doti che gli consentiranno di entrare anche nell'Olimpo del basket mondiale. Tutti hanno esaldato nella mente anche quell'istantanea ben precisa che risale al giorno dello scudetto. Gara 5 a Milano, Enzino cade a terra, si tocca il ginocchio, grida dal dolore, il gesto delle due dita in segno di resa, una resa solo momentanea. I compagni infatti riuscirono a vincere quel finale di partita anche grazie alla grinta che trasmetteva il Diablo fermo ai margini del campo di gioco in barella. Lo scugnizzo di terra di lavoro potrà riabbracciare tutti i supporters bianconeri. Caserta lo sta aspettando.